Allora, il video diretto sta iniziando. Bene, vediamo un pochino, dovremmo essere già collegati, credo. Allora, aspettiamo ancora qualche secondo per vedere se ci sono presenze. Io ancora non ho idea se ci sia qualcuno collegato, per cui aspetto ancora qualche momento per vedere se qualcuno si collega con noi. Allora, sì, sembra che ci siano un po' di persone collegate. Aspettiamo solo qualche istante ancora per permettere a tutti di sistemarsi davanti allo schermo. Allora, intanto se qualcuno vuole provare a dare qualche segnale di presenza... Poi vediamo se sarà anche possibile rispondere a delle domande. Provate a scrivere qualcosa, voi che siete presenti, così io capisco... che ci siete, anche se vedo che se c'è un numero di persone abbastanza consistenti. Non so dove si leggono... Ah, qua sotto... Ho capito, quindi i commenti li devo leggere qua sotto. Sono molto pratico di questa nuova... Pensiamo se la faccio un po' più piccola... Oh, ecco, così credo che... Eh, buonasera, ora ti vedo e ti sento. Sentite bene, vero? Sono Angela... Tento molto bene, tento, ok? Bene, 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 vedo che ci siamo, ci siamo. Allora, noi ovviamente ci troviamo sulla pagina... sulla pagina Facebook Focus 3.0, il mistero della vita, una pagina ideata, come sapete tutti, da Enrico Ballantini. Dico queste cose perché poi magari queste pagine, quando vengono messe su YouTube, poi vengono lette anche altrove, perciò dobbiamo comunicare questo fatto, che siamo ospiti della pagina Focus 3.0, il mistero della vita. Per quelli che non mi conoscono, io sono Enrico Ruggini e sono stato invitato da Anna Tamburini Torre a tenere questa diretta video introduttiva alla ripresa della lettura commentata degli insegnamenti del Cerchio Firenze 77. Questa lettura avviene sempre sulla pagina del Focus 3.0, il mistero della vita, all'interno di quella sezione che Anna Tamburini Torre ha chiamato LUX, che è l'Università della Conoscenza. L'Università della Conoscenza è stata ideata da Anna Tamburini Torre, la chiamata LUX, e già da molti mesi prima della pausa estiva abbiamo iniziato queste letture degli insegnamenti del Cerchio Firenze 77 e abbiamo letto insieme tutta la parte filosofica del primo volume del Cerchio Firenze 77 edito dalle edizioni mediterranee, che ce l'ho qua, mostro per chi non l'avesse presente, eccolo qui, Dai mondi invisibili, dai mondi invisibili. Questo primo volume, abbiamo già letto la parte filosofica di questo volume e adesso proseguiremo con la parte filosofica del secondo volume del Cerchio Firenze 77, che è questo, Oltre l'illusione, oltre l'illusione dalle apparenze alla realtà. Ecco, questo secondo volume è un libro particolarmente importante nel Cerchio Firenze 77 perché ha condensato in sé quasi tutti i contenuti del percorso, ma li ha condensati in sé, è come se fin dall'inizio in questa sorta di programma didattico che hanno sviluppato le guide del Cerchio Firenze 77 fossero ben chiari quali erano gli obiettivi da raggiungere e i percorsi che sarebbero stati fatti e quindi si trovano indicate queste vie direttrici che porteranno poi avanti nel corso degli anni successivi. I volumi di insegnamento del Cerchio Firenze 77 sono, quelli che contengono l'insegnamento del Cerchio Firenze 77, sono cinque questi volumi. I primi quattro volumi sono proprio stati anche costruiti dalle guide che hanno proprio scelto i materiali che dovessero entrarci dentro. Il quinto è giunto postumo subito dopo la scomparsa dello strumento che le guide avevano scelto per comunicare con noi e quindi contengono tutti gli insegnamenti conclusivi dell'ultimo anno di comunicazioni delle guide. I primi quattro volumi tutti insieme nei loro titoli costituiscono la frase che dà senso a questo evento, a questo insegnamento filosofico ed è dai mondi invisibili oltre l'illusione per un mondo migliore, le grandi verità ricercate dall'uomo. Questi sono i quattro volumi proprio costruiti dalle guide e l'ultimo che contiene gli ultimi insegnamenti, quelli che concludono tutta questa vicenda didattica, si chiama Oltre il silenzio perché nel momento in cui si stava preparando il volume con il trapasso di Roberto Setti che è stato lo strumento scelto dalle guide per questa impresa, per questa meravigliosa, straordinaria vicenda, è scomparso e quindi le guide sono entrate nel silenzio, non essendoci più questo ponte tra queste due dimensioni di esistenza che hanno permesso questo vero e proprio miracolo di comunicazione, oltre che miracolo di tante cose straordinarie che sono avvenute. Allora, tutta la parte di lettura che è stata fatta fino ad oggi la potete trovare sul canale YouTube di Focus 3.0 perché tutto quello che viene pubblicato in queste dirette vanno tutte in questo grande contenitore dove potete ritrovare tutte le letture del Cerchio Firenze 77. Inoltre, noi del Cerchio Firenze 77, noi, io, sostanzialmente, tutto quello che io faccio che riguarda il Cerchio Firenze 77 lo trovate su quella pagina Facebook che si chiama Il Cerchio Firenze 77, una storia vera divenuta leggenda perché lì c'è tutto quello che io faccio dedicato al Cerchio Firenze 77. Insomma, avete possibilità di rintracciare quello che non avete potuto seguire fino a questo momento e potete quindi fare un rapido aggiornamento di tutto quanto, di tutte le letture che sono state fatte in modo da poter proseguire in questa lettura commentata dell'insegnamento. E vi suggerisco di farlo, cioè di recuperare queste lezioni che si sono svolte precedentemente a questo nuovo inizio che ci sarà in ottobre, poi vi darò le date, vi suggerisco di farlo perché è un insegnamento che progredisce e che si fonda su tutte le parti che vengono, che sono state precedentemente enunciate e quindi per forza di cose si rende necessario avere seguito fin dall'inizio tutto il percorso, altrimenti quelle cose che andremo a leggere successivamente potrebbero risultare oscure, non chiare, come proprio un procedimento che ha questa progressione. è importante seguire questa progressione e seguire l'ordine di pubblicazione degli insegnamenti perché è l'ordine esatto di come gli insegnamenti sono stati pensati e offerti a noi. Questo è il suggerimento che vi do. Adesso posso anche pensare che ci siano alcuni tra di voi che non avendo seguito questa prima parte sappiano poco di che cosa sia il cerchio Firenze 77 e quindi dirò alcune cose che magari gli altri più esperti ormai conoscono molto bene ma che insomma non dispiace poi ascoltare di nuovo. Cos'è il cerchio Firenze 77? Per chi non lo sa è forse il più grande esperienza di comunicazione con l'aldilà, diciamo con l'aldilà, con una dimensione altra di esistenza. In questa esperienza guide di grandissima levatura si sono dedicate per 37 anni e passa alla comunicazione di alcune verità, alcune di tutto quello che riguarda l'esistenza dell'uomo che riguarda il suo essere nella vita, il suo sperimentare sia nel bene che nel male riguarda il libero arbitrio, riguarda il karma proposto in una visione diversa da quella che ce ne hanno sempre dato gli orientali, riguarda le dimensioni di esistenza nelle quali noi viviamo coscientemente oppure senza esserne consapevoli perché le dimensioni di esistenza sono molteplici e noi siamo attivi dentro queste dimensioni di esistenza spesso senza esserne consapevoli. riguarda la cosiddetta immortalità dell'anima, riguarda l'essere, ciò che siamo al nucleo di noi stessi al di là della personalità che incarniamo nel momento in cui ci sentiamo viventi quando abbiamo la consapevolezza occupata, completamente assorbita dall'utilizzo dei nostri sensi fisici che sono delle sonde che ci mettono a disposizione l'esperienza del mondo materiale così come la stiamo facendo. Insomma tutte queste cose sono state a lungo spiegate, siamo stati noi che abbiamo seguito gli insegnamenti del cerchio di Firenze 77, siamo stati presi per mano e portati dentro questo viaggio dell'incredibile, non solo dell'incredibile fisico perché dentro questa esperienza del cerchio di Firenze 77 per chi l'ha fatta ci sono state anche manifestazioni fisiche che annullano completamente le leggi di quella fisica che noi conosciamo e dentro la quale ci muoviamo, per cui ci sono state levitazioni, ci sono state smaterializzazioni, ci sono state creazioni di oggetti della materia, ci sono state luminescenze, profumazioni, veramente in 37 anni è accaduto di tutto, da un punto di vista proprio dei fenomeni fisici, ma questa loro e le guide la chiamavano la gran cassa, ovvero le chiamavano quella parte di questo fenomeno utile a catturare l'attenzione e la curiosità di tantissime persone, ma la cosa veramente straordinaria che è avvenuta sono questi 37 anni di comunicazione di più e più guide che seguendo un preciso progetto didattico ci hanno fatto dono di questo meraviglioso insegnamento e di tutte le rivelazioni che sono contenute dentro queste pagine preziose. Le pagine preziose sono tutte pubblicate dalla casa editrice edizioni mediterranee, le prima pubblicazioni sono avvenute nel 1977 e non sono mai cessate, sapete che un libro quando viene pubblicato dopo due tre anni è morto e sepolto, sono pochissimi libri che sopravvivono a qualche anno. Ecco dal 1977 questa casa editrice non ha mai smesso di stampare questi libri perché è continua la richiesta di questi libri ormai sono state vendute tantissime copie per cui tantissime persone, ma si parla veramente di credo di poter dire tranquillamente molte decine di migliaia di persone sono a conoscenza dell'esistenza del cerchio Firenze 77 e delle cose meravigliose che sono state comunicate. Qui vedo che continuano a passare messaggi, ora mi sposto un attimo per vedere se c'è qualche cosa, ecco c'è Anna che sta dando un po' di informazioni, poi se fate scorrere questa serie di messaggi, vedrete che Anna Taburinatore darà tutte le informazioni necessarie per reperire le lezioni che sono già passate. Allora vorrei portarvi per un momento dentro questa esperienza così bella, questa è un'esperienza che è iniziata nell'immediato dopoguerra con quello che accade spesso in tante famiglie, cioè a un certo punto scompare un figlio e la mamma vuole in ogni modo mettersi in contatto con con questo figlio nella convinzione che esista da qualche parte esista, questo figlio esista ancora. Viene fatto questo esperimento nel quale nessuno crede e invece avviene effettivamente un contatto, vengono date prove che chi comunica da un'altra dimensione di esistenza è effettivamente il figlio scomparso, ma lì si sta semplicemente, si stanno ponendo le basi per qualche cosa che nessuno avrebbe immaginato allora, cioè si è aperto un canale di comunicazione con questo ragazzino che allora aveva 15 anni, era Roberto Setti, questo canale di comunicazione che diventa il canale di comunicazione attraverso cui passerà questo incredibile fenomeno del cerchio di Firenze del 87 con tutto quello di meraviglioso che è stato possibile proprio perché esisteva questo canale puro, la purezza di questo canale che era Roberto Setti che ha permesso questa esperienza. Da lì sono cominciate tutta una serie di passaggi che hanno fatto sì che nel giro di poco tempo cominciassero quelle che vengono definite le trans a incorporazione. Trans a incorporazione vuol dire che Roberto Setti seduto nella sua poltrona, allora un ragazzino, chiudeva gli occhi e attraverso di lui, lui scompariva nel senso che era come se si addormentasse, tanto è vero che quando finiva questa seduta, seduta medianica, seduta spiritica, seduta come la vogliamo chiamare, quando finiva lui si risvegliava e chiedeva se era successo qualcosa perché la sua sensazione era che avesse solo chiuso gli occhi e poi riaperti e invece era passata un'ora, un'ora e mezza dove era avvenuto di tutto durante quell'ora, quell'ora e mezza e soprattutto quello che Roberto Setti faceva era mettersi totalmente a disposizione di questa esperienza senza pretendere di avere un qualche ruolo in questa esperienza e questa purezza di intenti, questa assoluta dedizione libera da ogni desiderio di emergere, di farsi conoscere, di avere un ruolo, ha fatto sì che questa esperienza si tramutasse in impurezza, che arrivasse con il massimo della nitidezza possibile senza nessuna interferenza da parte della psiche di questo ragazzo e poi giovane, giovane uomo e poi uomo di una certa età perché Roberto Setti è morto all'età di 54 anni quando aveva ci aveva permesso la trasmissione dell'ultima lezione di insegnamento. Con l'ultima lezione di insegnamento la sua funzione era terminata, era terminato il suo percorso in questa vita, la sua incarnazione aveva svolto tutto quello che doveva svolgere e quindi è scomparso, è entrato, come dico io, nella trasparenza, cioè è entrato in una dimensione di esistenza altra e si è ricongiunto probabilmente a quelle guide delle quali lui è stato il tramite per questa vita materiale qua. E quindi immaginate un po' come avvenivano queste sedute. Roberto Setti, seduto sulla sua poltrona, lui aveva un gesto quando stava per entrare dentro alla seduta, sentiva qualcosa dentro di sé, dopo che lo faceva, aveva capita questa cosa, sentiva venire qualcosa dentro di sé, allora si slacciava il cinturino dell'orologio e posava questo orologio accanto a sé, sul tavolinetto accanto a sé e lì allora i presenti capivano che stava per iniziare la seduta. A quel punto nel luogo dove si trovava che non era sempre lo stesso, sono stati veramente tanti i luoghi dove avvenivano le sedute, dove avvenivano i miracoli, dove avvenivano le profumazioni, le luminescenze e questo anche a garanzia della genuinità dei fenomeni fisici che avvenivano, perché se le sedute avvenissero, certe sedute avvenissero sempre nello stesso ambiente, qualcuno, un po' in malafede, potrebbe pensare che quello che sta avvenendo è stato preparato, che ci sono dei congegni che permettono di sentire voci, profumi che arrivano, luci che si accendono, che vagolano, ma siccome le sedute sono avvenite veramente in tanti posti, non solo a Firenze ma in giro per l'Italia, dal nord, dalla Sicilia fino a Brescia e anche in giro in altre località, sono avvenute un po' dappertutto e poi avvenivano anche in maniera piuttosto estemporanea. Questo, perlomeno questo, garantisce la genuinità di fenomeni che hanno oggettivamente del miracoloso e tantissime, centinaia di persone hanno potuto sperimentare direttamente il manifestarsi di questi veri e propri miracoli della fisica. Allora lui si slacciava il cinturino e chi era lì presente capiva che quello era il momento, stava per iniziare la seduta e quindi venivano spente le luci, le sedute avvenivano nel buio della stanza, ma vi posso dire per esperienza personale che il buio che si creava nella stanza era diverso da il buio che si fa quando di notte siamo in una stanza con la luce accesa e la si spenge e si rimane nella stanza. È come se, che posso dire, è come se il buio, per virgolette, normale di una stanza in cui si spenge una luce è un buio dove comunque sentiamo di essere dove siamo, semplicemente nell'ambiente che è diventato buio perché abbiamo spento la luce, ma quel buio lì delle sedute era come stare sulla soglia di una dimensione altra, dove si permetteva che avvenissero certe manifestazioni che potevano raggiungerci solo se era aperto questo varco in una dimensione dove il buio aveva altre caratteristiche. Tanto è vero che quando venivano fatte per esempio esperienze di luminescenze particolari che affioravano dalle mani di Roberto e poi salivano colonne di fumo luminoso che salivano su e che permettevano di vedere nel buio quello che stava succedendo, quando alcuni sperimentatori chiedevano di poter accendere la luce per vedere quali tipi di sostanze fossero in gioco, le luci venivano accese e scompariva tutto. Roberto era lì seduto con le mani aperte davanti alle persone, immerso nel suo sonno, le mani erano asciutte, non c'era niente, si poteva accendere e spengere la luce, appena si spengeva la luce istantaneamente c'era tutto quello che si poteva vedere in maniera così vivida, appena si riaccendeva la luce scompariva tutto, non c'era niente, nulla. Era una cosa straordinaria dal punto di vista delle luminescenze in particolare, ma poi sono avvenuti dei fenomeni di luminosità straordinari, come degli archi voltaici di scariche elettriche, delle cose meravigliose, così come in certi effetti, come se il corpo del medium avesse preso proprio fuoco, come ci fossero, come delle fiammelle che inondavano il corpo di Roberto e poi a luce accesa non c'era niente, a luce spenta tutto. Quando lui faceva, per esempio, produceva lui, attraverso di lui venivano prodotti degli apporti, ovvero dalle mani cominciava questa luminosità e poi cominciava, queste mani cominciavano a manipolare una sostanza che era una sostanza ectoplasmatica, come ci hanno spiegato, e da questa manipolazione piano piano prendevano forma degli oggetti che andavano formandosi gradualmente dentro queste mani luminose. Poi questi oggetti venivano passati alla persona a cui veniva donato l'oggetto per l'occasione. Alle volte gli oggetti non erano neanche formati completamente, venivano chiusi tra le mani delle persone e continuavano ad emettere questa luce chiusi tra i palmi delle persone e le persone sentivano trasformarsi l'oggetto fino a prendere la forma definitiva dentro le loro mani. Insomma, vi sto facendo questi esempi per farvi capire che dal punto di vista proprio della fenomenologia è stato veramente straordinario questa vicenda, eppure è la cosa meno importante. È chiaro che chi li ha vissuti ha fatto un'esperienza indimenticabile, è chiaro anche che probabilmente chi ha vissuto queste esperienze aveva necessità di questi rinforzi per potersi agganciare alla parte invece di rivelazioni che noi abbiamo chiamato filosofiche, etico-filosofiche, che venivano dalle guide del cerchio, che è la vera parte importante, il vero scopo per cui le guide si sono manifestate per 37 anni attraverso Roberto Setti. E quindi nel buio di questa stanza in cui c'erano, all'inizio cominciarono con sette persone, poi sono diventate veramente tante. Negli ultimi anni nella casa di Cepeto, che era della sorella di Roberto Setti, c'era questa grande sala sopra dove c'era pieno zeppo di gente tutta intorno a vedere in diretta quello che succedeva e poi c'era una taverna sotto, c'erano dei microfoni che con i fili scendevano sotto per poter ascoltare tutto quello che veniva detto delle guide e sotto altre tante persone che riempivano insomma veramente centinaia e centinaia di persone hanno potuto vivere questa esperienza almeno una volta e portarla con sé nella loro vita. Dunque all'inizio, buio, le persone che c'erano, e poi che cosa succedeva? Altra cosa miracolosa. Arrivava un profumo. Un profumo perché ognuna di queste guide che parlava era annunciata dal suo profumo particolare. Di solito la guida che apriva le sedute del cerchio di Firenze del 77 era Dali. Questa guida Dali veniva annunciata dal profumo di Violette, per cui questo profumo di Violette inondava tutto l'ambiente e Dali introduceva l'incontro, poi rispondeva ad alcune domande e poi si accomiatava per il momento dal gruppo ed arrivava un'altra guida. E quello che era straordinario è che, come potete immaginare, quando un ambiente è saturo di un odore, di un profumo, non ne può introdurre un altro perché o i due si mescolerebbero, e invece si scompariva, si annullava il profumo di Violette e interveniva il profumo della guida che successivamente parlava. Allora magari arrivava Teresa, Teresa era una voce mistica del cerchio di Firenze del 77 ed era sempre in levitazione. Che cosa vuol dire questo? che il corpo di Roberto Setti, che era un uomo alto, un uomo di 80 kg, veramente un bell'uomo alto, cominciava a salire verso l'alto, dalla poltrona in cui era, cominciava a salire verso l'alto e dall'alto di questi, soprattutto quando parlava da via delle ruote, uno dei posti dove venivano le sedute, o negli ultimi anni, pensate, quando lui era senza più l'uso delle gambe su una seggiolina a rotelle, perché si era ammalato di SLA, di sclerosi laterale amiotrofica, quindi non aveva più l'uso delle gambe, e questo corpo saliva su e andava su fino al soffitto e poi al soffitto girava sopra le teste delle persone facendo tintinnare il lampadario in alto e dall'alto cadevano petali di rose, insomma era una cosa meravigliosa e lei, Teresa, era sempre annunciata da un intenso profumo di rose, quindi via il profumo di violette di Dali, arrivava il profumo di rose, ah ecco c'è Teresa, perché ormai tutti avevano imparato a riconoscere dai profumi che anticipavano l'arrivo delle guide, queste guide iniziavano a parlare, poi dopo andava via Teresa e veniva, non so, Campis, allora il profumo di sandalo che introduceva l'arrivo di Campis e via via via, questo era come si svolgevano queste sedute, poi a un certo punto della seduta c'era la guida fisica, la guida fisica non di volta in volta, vedo qui colgo al volo una domanda, le guide cambiavano di volta in volta, le guide nella stessa seduta erano più guide che parlavano, non sempre le stesse, ci sono state alcune guide che sono state quelle che per 37 anni sono state sempre presenti e hanno portato avanti gli insegnamenti, per esempio c'era la guida Claudio, la guida Claudio era quella guida che ha insegnato i partecipanti del gruppo a lavorare in maniera introspettiva su di sé, attraverso l'insegnamento del conosci te stesso che è stato l'unico modello di osservazione di sé che è stato dato per apprendere a conoscersi dentro la propria vita per essere più consapevole dei propri comportamenti. Questa guida Claudio non interveniva tutte le volte, ma nel giro di ogni due, tre, quattro sedute sicuramente veniva Claudio a periodi di presenza più intensa, a periodi meno intensa, a seconda anche di chi partecipava al cerchio, a seconda del momento in cui era l'insegnamento. La cosa che era veramente straordinaria è che ognuno di loro aveva, portava avanti il suo specifico insegnamento, ma poi adesso chi ha studiato il cerchio si accorge che questo modello didattico era come molto nitido dentro queste guide perché ognuna portando avanti il suo insegnamento in realtà ognuna sviluppava un filone che si accordava perfettamente con quello che le altre guide stavano portando avanti. Quindi è stato un lavoro in progressione, parallelo di tutte queste guide ben armonizzate fra di loro. Qui chiede Oriana ma ognuno di voi partecipanti ha recepito nello stesso modo gli insegnamenti o si arrivava una comprensione, diciamo, collettiva dopo discussioni tra i partecipanti o la comprensione è tuttora aperta, ad esempio nei libri individuali, mi scuso se... qui l'altro dice non riesco a formulare meglio la domanda ma è formulata benissimo la domanda e vedete al cerchio di Firenze 77 hanno partecipato persone di tutti i tipi, di tutti i livelli, era come se nel cerchio di Firenze 77 fosse presente, ci fosse una rappresentanza di tutta la società, di tutti i ceti sociali, le culture, le intelligenze, per cui c'erano persone molto semplici che non riuscivano a seguire discorsi filosofici ma che erano innamorati della dimensione mistica di Teresa e che quindi anelavano a vibrare insieme a Teresa che comunicava un amore strabordante, proprio incontenibile per quanto era intenso l'amore che rovesciava sulle persone dall'alto del soffitto oppure vi erano persone che non erano minimamente interessate a Teresa perché non erano nelle loro corde ma erano completamente coinvolte dagli aspetti più razionali, filosofici di Campis, per esempio, un'altra delle voci del cerchio, quella che più di tutte ha contribuito alla parte filosofica dell'insegnamento che noi stiamo leggendo attraverso questa Lux e che continueremo a leggere a breve. E quindi ognuno ne faceva un'esperienza assolutamente personale ma questo essere così variegati nelle voci e portare avanti i filoni permetteva di fatto che ognuno trovasse il filone adatto a lui, che ognuno trovasse una corrispondenza e che quindi si appassionasse a questo processo, a questo percorso che avveniva. Quindi c'era anche questo scopo nell'essere presente di tante voci simultaneamente. Poi nel corso degli anni si sono aggiunte altre guide, c'è stato un momento intorno agli anni 79-80 che c'è stato un ricambio dopo tanta gente che aveva a lungo vissuto il cerchio Firenze 77, c'è stato un ricambio perché si è ricostituito un nuovo gruppo che ha portato, con il quale è stato possibile per le guide, portare alle estreme conseguenze l'insegnamento che ormai stava avvolgendo la conclusione perché erano gli ultimi quattro anni di insegnamento e quindi c'è stata anche un'accelerazione da questo punto di vista con la partecipazione di persone che erano state a loro insaputa, potremmo dire, convocate dentro questa esperienza. Perché una cosa c'è da capire e cioè che questa sapienza che ci è giunta dall'oltre per potersi incarnare qui da noi aveva bisogno di una controparte dall'al di là, c'era bisogno di una controparte nell'al di qua. Quindi esiste l'al di là con la sua sapienza, esiste un tramite, che è Roberto Setti, ed esiste un'al di qua che sono coloro che ricevono gli insegnamenti e li fanno propri e li studiano, si appassionano e questa è la controparte di cui le guide avevano bisogno, diciamo bisogno, che era necessario affinché si potesse realizzare realizzare questa esperienza di una sapienza che si delimita in una forma che è un vocabolario, una lingua, e lo fa attraverso persone incarnate capaci di accogliere questa conoscenza. Questo è il miracolo che è avvenuto ed è per questo anche che io ho scritto questa storia del Cerchio e Firenze 77, la storia è contenuta in questi libri, questo è uno dei libri, il Cerchio Firenze 77, una storia vera divenuta leggenda. Sono tre volumi, vedete, sono uno, due, e il terzo, il terzo volume, che narrano cosa? Tutta questa storia che è avvenuta dalla parte dei testimoni, dalla parte di questa di questa controparte necessaria nell'aldiqua per accogliere questa esperienza. E siamo tutti noi, perché, sì, qui sono narrate le vicende di queste persone, anche per far sentire che erano persone normalissime, come me, come voi che state ascoltando, assolutamente normali, che hanno vissuto qualche cosa di straordinario che è alla portata di tutti, però. Non è una cosa che riguarda solo alcuni fortunati, ma è alla portata di tutti. È un modo di ascoltare la vita, di leggere quello che succede, che è alla portata, veramente, è per tutti quanti, per tutti coloro che volgono la loro attenzione a questi argomenti, a questi temi, e lo fanno per curiosità, forse, ma forse per desiderio di conoscere, forse perché sentono dentro di sé che qualcosa d'altro ci deve essere, che la vita non può essere solo questa corruzione, forse forse è nata ad accumulare o ad approfittarsi o a cercare di essere prima degli altri, di ottenere le cose che la società ci, così, ci mette davanti come la lepre davanti al cane per farci correre dietro a cosa non si sa. Ecco, molte persone si rendono conto che non ha senso che la vita sia solo tutta questa in questo modo e che desiderano invece capire qualche cosa di più. Le guide del Cerchio di Firenze del 87 sostanzialmente ci hanno spiegato perché, anche perché noi viviamo così, viviamo secondo questi modelli e perché ci accadono le cose che ci accadono, che significato hanno, che cosa rappresentano gli altri nelle nostre vite. insomma, è veramente un viaggio molto, molto, molto appassionante e interessante e quindi a un certo punto la seduta aveva, per così dire, conclusione, cioè tornava a Dali di solito a chiudere la seduta, tornava quindi il profumo di Violette, nel frattempo, nel mezzo, più o meno, la seduta, nelle fasi finali, si era manifestata l'altra guida che si chiama Michelle, che era Michelle, la guida che si occupava dei fenomeni fisici, avveniva o un apporto o un particolare tipo di fenomeno fisico che veniva dedicato a qualcuno che era presente, di solito che era presente la prima volta, riceveva un dono di questo tipo e poi esso lo portava a casa ed era la ricchezza per lui ma non tanto di aver ricevuto quel dono quanto di essere entrato in contatto con qualche cosa che l'avrebbe poi accompagnato per tutta la vita come significato che c'è qualcosa d'altro nella vita che è molto di più di quello che possiamo pensare. Adesso io mi leggo alcune delle cose che sono state dette, alcune richieste, vediamo un po', vediamo se trovo, quando partecipò nel cerchio Firenze 77 il primo contatto che io ho avuto è stato nel 1978 tramite quella che i maestri definirono la segretaria del cerchio che era nella Bonora, nella Bonora che già dagli anni, dal 1954 partecipava al cerchio Firenze 77 quindi era una veramente una decana che aveva vissuto tantissime esperienze dentro il cerchio Firenze 77 che aveva dedicato tanta parte della sua vita a raccogliere tutti i materiali, a batterli a macchina, a ciclostilarli per poterli fare avere a tutti e per radunare tutto quel materiale che poi sarebbe servito per le pubblicazioni successive di cui lei neanche immaginava all'inizio. Vediamo un po'. Che cosa chiedete? A mio parere non si impara mai completamente, non c'è dubbio se no saremmo o non saremmo qui, siamo qui apposta per imparare. Ma dietro Claudio quale... No, no, non... Allora, la maggior parte delle guide di quelle che hanno fatto veramente l'insegnamento del cerchio Firenze 77 si sono presentati a noi con dei nomi di comodo semplicemente così perché dovevano presentarsi con un nome ma che non ha nessun riferimento storico riconducibile a qualcuno per cui Dali, Campis, Claudio veramente non sappiamo che di Teresa abbiamo potuto appurare che si tratta che nella sua ultima incarnazione era stata Teresa Delisier la piccola Teresa Delisier questo è stato possibile appurarlo ma degli altri di pochissimi di Francois una guida che è intervenuta negli ultimissimi anni negli ultimi pochi anni è intervenuta questa guida che si è presentato come Francois e che ci ha raccontato che nella sua ultima incarnazione è stato questo famoso medico francese che si chiamava François Brousset ma quella è stata l'ultima incarnazione niente a che vedere con il François che veniva a parlare con noi che di quell'ultima incarnazione aveva solo un piacevolissimo accento francese ah poi non vi ho detto insomma ognuna di queste guide ha la sua voce la sua personalità che è rimasta inalterata durante i 36 37 anni di comunicazioni ognuno ognuno il suo stile espositivo ognuno il suo vocabolario ben distinte ognuno dall'altro allora hanno aiutato Sette ad affrontare la malattia che l'hanno afflitto allora no nel senso che non hanno rivelato a Roberto Setti perché quella malattia Roberto Setti io la definisco un'anima pura che è stato un canale veramente perfetto limpido per permettere questa comunicazione che arrivasse proprio pulita sotto tutti gli aspetti e credo che proprio per questo sia stato scelto per questa missione che ha svolto nel migliore dei modi possibili proprio dal punto di vista umano senza alcuna ambizione rimanendo sempre nell'ombra molto defilato fino al giorno della sua morte praticamente nessuno sapeva che lui era il famosissimo medio del cerchio di Firenze di 87 di cui nessuno sapeva niente avrebbe potuto avere per sé ricchezze gente che voleva avrebbe pagato qualsiasi cosa per sapere chi era e per poter assistere almeno una volta a una seduta del cerchio ecco tutto questo è sempre stato lontanissimo da lui e però le guide dicevano che non erano qui per fare come dire dei trattamenti speciali per qualcuno questo era lo strumento che permetteva questa esperienza ma era anche un uomo incarnato e come tutti gli uomini incarnati aveva il suo karma e il suo karma si è espresso attraverso questa difficile malattia negli ultimi anni della sua vita e lui l'ha vissuta come tutti gli altri con una differenza ovviamente e cioè che era immerso negli insegnamenti delle guide da quasi 40 anni e quindi sicuramente questo l'ha aiutato interiormente ad affrontare meglio questa durissima esperienza di una malattia come la sclerosi laterale miotrofica allora qui la Dorella dice che ha amato tutti i maestri ma che è quello che ha più stravolto la mia vita credo che questo sia successo a molti di venire stravolti dagli insegnamenti a volte estremi anche perché non c'è dubbio che sono rivoluzionari rivoluzionari per come noi vediamo la vita e la lettura che ce ne danno è anche questa logica estremamente stringente quello che c'è di particolare negli insegnamenti del cerchio Firenze del 77 è che non ci sono aspetti dogmatici aspetti un po' misteriosi fumosi non ci sono affermazioni che non che non che non poggiano su niente è tutto estremamente logico una persona che è abituata a usare la logica e a ragionare con la propria testa una persona di questa epoca quindi con una mente formata così come è quella dell'epoca in cui viviamo può seguire gli insegnamenti senza fare nessun torto alla sua ragione perché sono estremamente logici Campis è l'essenziale della logica più alta che possiamo incontrare da questo punto di vista è veramente affascinante perché attraverso la sua logica ci porta a comprendere cose che sono lontanissime dal nostro senso comune e ad accettarle per logica non per fede allora Maurizio dice Dali mi ha preso nel cuore Campis nella mente era un momento particolare della mia vita ora mi chiedo ora in ogni momento ci sono sempre queste guide intorno a noi sì perché le guide non è che ci sono e non ci sono non dovremmo pensare alle guide come un po' in maniera antropomorfa a come possiamo pensare a noi un po' più grandi un po' più evoluti le guide si sono manifestate con delle modalità a noi utili per poter fare questa esperienza cioè con delle voci con un vocabolario in come dire occupando il corpo di Roberto che ha avuto anche delle trasformazioni fisiche durante le sedute medianiche per darci come dire l'illusione di qualche cosa di riconoscibile ma le guide sono sostanzialmente sapienza coscienza sono queste e la coscienza è sempre presente sempre attiva non manca mai è solo che noi siamo chiusi a questa dimensione di coscienza e quindi e quindi abbiamo i nostri limiti e ci serve poter pensare alle guide come qualche cosa che ha un po' a che fare con noi in maniera un po' antropomorfa volevo porti una domanda oddio è saltato tutto dove è mi sono persa quella ah ecco non si riesco a allora dice Dorella volevo porti una domanda non pensi che tutte queste differenze di voci mi riferisco a maestri non fossero in realtà un'unica voce la voce dell'assoluto che si è fatta parola io è proprio quello che penso intendendo con assoluto la coscienza allora poniamo no o però voglio puntualizzare questo quello che sto dicendo adesso è l'idea che mi sono fatto io e qui suggerisco a ognuno che si faccia la sua idea perché ognuno si prenda questi libri se li studi si faccia si immerga dentro questi libri si faccia la sua idea dopo anni di studio perché dunque da 1978 quanti sono? 42 43 anni 44 dopo tanto studio di questa materia anch'io mi sono fatto l'idea che se una coscienza che contiene tutto che contiene le esperienze di tutti gli uomini le esperienze di tutti i mondi quello che possiamo immaginare no? non la coscienza come un Dio un'immagine di Dio antropomorfo come un grande un grande essere no proprio coscienza coscienza allo stato puro che nel mentre che gli uomini alcuni uomini alcuni esseri piccoli minuscoli uomini sono pronti per accogliere qualche cosa di più questa coscienza si fa da immensa incommensurabile si fa estremamente piccola per raggiungere questi uomini e permettere loro di fare un passettino avanti nel loro percorso evolutivo noi saremmo questi piccoli uomini così piccoli che nel loro percorso evolutivo hanno bisogno a un certo punto di confrontarsi con qualche cosa di più grande ma sono piccoli gli uomini possono contenere poche cose perché hanno una mente hanno un'intelligenza che è quella di uomini non è un'intelligenza del cosmo è solo un'intelligenza ognuno di un piccolo uomo che può contenere piccoli insegnamenti piccole notizie piccole informazioni allora questa coscienza si limita si limita si limita si limita fino a diventare minuscola e diventare qualche cosa che l'uomo riesca ad accogliere come idea come concetto come logica come possibilità di contenere qualche cosa che sennò sfugge alla mente così limitata di questa espressione della coscienza che è l'uomo ebbene io credo che sia effettivamente questo che è una coscienza che vuole comunicarsi all'uomo nella sua forma lo raggiunga attraverso molteplici voci quella più come posso dire più accogliente più paterna quella più mistica quella orientaleggiante quella più psichica più psicologica quella più misteriosa no? perché? perché l'uomo ha bisogno di tutti questi aspetti ma in realtà è un'unica coscienza che si fa molteplice per poter raggiungere qualsiasi uomo e permettergli di accogliere dentro di sé qualche cosa che altrimenti non è contenibile non è contemplabile dalla sua esperienza così ridotta chiusa dentro la materia che sta sperimentando vediamo se c'è stato qualcun altro che ha scritto qualcosa buonasera buonasera allora Francesca dice Roberto era molto religioso come collegare gli insegnamenti dei maestri agli insegnamenti della dottrina cattolica ma come 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 fa piacere a te perché nella dottrina cattolica ci sono tantissimi aspetti ma le dottrine sono in qualche modo le dottrine di ogni religione contengono tutte nuclei di verità che poi gli uomini hanno declinato nei loro modi però se si va a vedere dentro ogni religione nelle grandi religioni i nuclei iniziali sono sempre quelli le rivelazioni sono sempre quelle diciamo che poi ci sono gli sviluppi ulteriori per cui per chi studia le religioni anche dal dentro le religioni per cui nel nostro caso per i teologi che approfondiscono i temi del cattolicesimo vediamo quanti passaggi ci sono in un'epoca le verità della Chiesa Cattolica erano di un certo tipo poi sono cambiate sono diventate un altro tipo poi un altro poi un altro oggi abbiamo abbiamo dentro il cattolicesimo una descrizione della verità che non corrisponde a altre descrizioni della verità che si sono succedute nei secoli e per cui sono descrizioni che si adattano abbastanza all'epoca alla quale si riferiscono all'interno di queste si trovano sempre nuclei di verità leggendo gli insegnamenti dei maestri noi si vede che non c'è nessun riferimento religioso preciso si semplicemente si possono identificare quei nuclei di verità che vengono per la prima volta spiegati senza dogmi senza misteri senza obblighi con molta molta libertà ecco questo credo che sia un elemento in più che può aiutare dopodiché io conosco molti cattolici che hanno frequentato il cerchio di Firenze 77 e che hanno trovato il loro modo di mediare tra la dottrina alla quale si sentono legati e gli insegnamenti del cerchio ok allora forse mi sto anche dilungando un po' troppo doveva essere una una diretta così leggerina mi sono un po' approfittato della situazione allora intanto vi voglio dire questo che abbiamo tre date fissate entro la fine di quest'anno purtroppo non sarà possibile quest'anno incontrarsi ogni due settimane come facevamo ma sarà solo una volta al mese un po' mi dispiace ma evidentemente non è possibile fare meglio di così e le date saranno l'8 di ottobre il 5 di novembre mi sembra di ricordare e il 3 di dicembre sempre di venerdì sempre alle 21 e 30 quindi vi do di nuovo le coordinate rispetto a quello che abbiamo fatto finora su qua su focus su focus scusate sul canale youtube di focus potete trovare tutte le lezioni che abbiamo già fatto qui su focus 3.0 il mistero della vita le stesse lezioni sono state organicamente riunite da Nicola Ferrentino sulla pagina facebook il cerchio firenze 77 una storia vera divenuta leggenda ma come le trovate là le trovate qua sono tutte a disposizione perché quello che ci interessa è che tutti quanti possano accedere a questo materiale preziosissimo le letture riprenderanno con la terza parte del libro oltre l'illusione è la parte dedicata all'insegnamento filosofico e da lì riprenderemo le nostre letture consiglio a tutti anche coloro che hanno seguito le precedenti di riprenderle in mano perché c'è stata la lunga pausa estiva ed è molto importante avere chiaro fresco tutto quello che c'è stato prima per poter proseguire perché oltre l'illusione anche se è solo il secondo libro di insegnamento del cerchio firenze 77 ma per molti è considerato forse il più ostico del cerchio perché è molto denso contiene delle rivelazioni importantissime ma non è ancora il momento per quelle rivelazioni di venire dispiegate in tutta la loro potenza la loro chiarezza e quindi possono rappresentare un punto in cui c'è un po' di difficoltà e cercherò di rendere la lettura più accessibile possibile ma ricordatevi che io sono solo Enrico Ruggini e che queste lezioni sono di una portata immensa quella che io cercherò in qualche modo di portarvi è un commento che nasce dalla mia frequentazione con questi insegnamenti ma sicuramente ognuno dovrebbe avere la sua frequentazione e la sua lettura quindi non vi vincolate troppo a quello che dico io ma cercate la vostra lettura che è molto 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 bella fatemi vedere se c'è ancora qualcosa direi che siamo lì per salutarci eccola qua brava chi ha scritto le date bravissima argomento pare interessante molto interessante il concetto è una coscienza unica per la rebora l'uomo per essere ascoltata ecco leggendo oltre all'illusione fatico a comprendere alcuni concetti come ad esempio la non contemporaneità delle percezioni e le varianti in particolare partendo dal presupposto che il tempo non esiste quel presupposto lì il tempo non esiste è un presupposto importantissimo è un presupposto che viene posto da queste guide in un modo che ci può aiutare a comprendere è qualche cosa che la nostra scienza conosce da ormai in maniera limpida direi da 50-60 anni possiamo dire i fisici sanno benissimo che il tempo è semplicemente una dimensione introdotta dalla vita dell'uomo con quella con questo presupposto che il tempo non esiste bisogna mettere insieme vari elementi hai toccato aspetta non leggo chi è la mano la mano hai toccato due temi cioè la non contemporaneità delle percezioni e le varianti che faranno molto discutere questo gruppo di lettura almeno quello che quelli che ce la faranno a seguirci e noi comunque andremo avanti adesso credo proprio che vi saluto vi ringrazio di essere stati qua ad ascoltarmi e ci vediamo con chi ci sarà 8 ottobre su questo stesso schermo a presto che vi ringrazio a presto vi ringrazio